Uno dei tanti interrogativi ancora con poche risposte ufficiali gira intorno alle aree exasi, già in passato si cercò un approfondimento per capire se ci fossero le condizioni per sbloccare un impasse che non ha permesso nuovi insediamenti o il passaggio ad eventuali investitori, pare che qualcosa stiamo a mano cambiando anche su un piano normativo. La commissione consigliare sviluppo economico vuole effettuare una verifica, sembra infatti che alcuni rustici siano stati assegnati da artigiani del territorio, comunque a piccole imprese che intendono insediarsi. Uno dei componenti della commissione, la grillina Virginia Farruggia, nel recente passato aveva cercato di avere un quadro più chiaro, con il tempo però la questione ha perso slancio. Ci sono stati trasferimenti di strutture produttive acquisite da aziende per il tramite di procedure fallimentari, in commissione comunque si intende agire in modo più dettagliato. È possibile che venga convocato il dirigente IRSAP che si occupa dell'area industriale locale e c'è inoltre un nuovo commissario liquidatore ASI. Se l'iter per l'affidamento delle aree andasse avanti con regolarità si potrebbe manifestare l'interesse di aziende o operatori intenzionati ad investire. La commissione presieduta dal consigliere Oserio Faraci intende capire cosa possa accadere per quelle aree in passato assegnate ma sulle quali non si è mai proceduto con investimenti concreti. L'area industriale orfana di un'infrastrutturazione adeguata non ha mai assicurato risultati confortanti per le aziende insediate e per investitori potenzialmente interessati a sviluppare progetti. Rimane irrisolto pure l'enigma della zona nord 2 ricompresa nella ZES locale ma sottoposta a vincoli che non consentono spazi di manovra. Agni addietro si è cercato di valutare soluzioni praticabili mai formalizzate. Le lamentele arrivano dagli imprenditori che vorrebbero investire o che hanno già definito un programma finanziario ma si trovano con niente in mano e al contempo da chi deve garantire la tutela ambientale e il ripristino di questi equilibri. Più volte Emilio Giudice della riserva biviera ha sottolineato che nell'area nord 2 non sono possibili altri lavori se prima non si procederà con le necessarie compensazioni. Gli imprenditori vorrebbero avere un quadro preciso che nell'amministrazione comunale e nella regione fino a questo momento sono riuscito a fornire. Grazie a tutti. Grazie a tutti.